ok vai ragazzi si continua con One Piece Pirate Warriors 2 comunque andiamo a completare qui il livello non so se il livello magari si completa adesso oppure magari poi si apriranno altre strade non lo so vediamo uhlala Sir Crocodile ragazzi vabbè andiamo eh devo conquistare la zona qui conquisto tutto e là aspettate ora vi aggiusto io vi do una bella aspettate una bella sorpresa oh guardate adesso vi piace ne ho tolto un po' di mezzo eh beh eh fate quello che volete voi adesso vediamo se come dite voi o come dice Brado qui no se come Brado non ha padroni gioca One Piece eh eh basta eh eh faccio quello che voglio ragazzi qui c'è Perona anche con due forzieri che a me piacciono alla grande alla grande voi lo sapete ormai ecco vai altra moneta raccolta stai tranquillo state un po' tutti tranquilli qui eh uhlala ragazzi uhlala quando sono bravo sono super bravo lo sai beh ragazzi Bradi si nasce non si diventa quindi guardate qui no vuoi vedere che non gli faccio nulla ah no gli ho fatto gli ho fatto qualcosina allora Perona anche se preferisco la Peronia la Perona però dai 1000 KO 1000 KO ragazzi tranquilli che se il livello finisce il gameplay non si interrompe tranquilli si va ancora avanti perché è iniziato da poco quindi non è che posso ok eh eh interromperlo così allora allora eh se lo colpisco adesso credo che sia andato eh ma Remma che resistenza che ha questo ha una resistenza pazzesca eh vabbè vediamo ehi stai tranquillo vediamo se magari qui c'è qualcosa per ricaricare subito uhlala ma è bellissimo adesso ma è bellissimo eh vabbè ora ti saluto Ciscio ti saluto proprio eh sì eh sì ma il livello ragazzi purtroppo ancora è finito perché bisogna tornare indietro come vedete no magari almeno trovo ecco qua un forziere di quelli che stanghe moneta argento trovata ragazzi almeno una l'ho trovata eh un forziere ma io sono convinto che da qualche parte ce ne sia anche un altro mi ho fatto uscire sono convinto di questo però magari poi ritrovo in separata sede rifaccio qualche livello perché se no poi magari il gameplay va troppo oltre il tempo limite e quindi eh eh ecco qui un altro forziere che a me piace ragazzi guardate che bello vado qui ragazzi vado qui vediamo un po' dai vorrei trovarne un altro eccolo qui a questo punto ragazzi faccio un altro giretto a vedere se trovo anche il terzo sempre se sempre se è spuntato fuori oppure no tanto sono tre forzieri per ogni livello di quelli di quelli segreti speciali diciamo ecco chiamiamoli chiamiamoli così allora vediamo se magari da queste parti ah ah no niente niente vabbè ragazzi mi accontento di due poi magari se qualcuno di voi ha il gioco lo va trovando e così via vai andiamo andiamo oppure magari bisogna mettere un livello di difficoltà un po' più alto per trovare tutti i forzieri poi magari non c'entra nulla magari è così non lo so comunque vai e ora colpisco pesante colpisco pesante te l'ho detto che ti colpivo pesante tu non ci credi non ci credi alle sfide di brado eh stai tranquillo tranquillo che ti resta poco vediamo un po' vabbè ragazzi sono fortissimo sono fortissimo è andato è andato a questo punto non so se il livello è concluso qui oppure oppure no vedremo io vorrei giocare ancora però vediamo un po' vediamo un po' è vittoria ragazzi quindi il livello è finito qui è finito qui ragazzi anche questo bellissimo livello ma va bene così dai va benissimo io sono soddisfatto vai ora devono parlare ora parlano ragazzi sappiamo eccolo qui tutto bello fiero contento di se stesso di quello che ha fatto e così via vediamo un po' se i discorsi sono finiti oppure se continuano no no ok ragazzi possiamo andare ullala livello 18 livello 18 ottimo mi garba ragazzi ho raccolto un po' di monetine un po' di monetine nuove aumento di livello livello 2 vai ho preso qualche moneta che va aggiunta e vai ne manca una ragazzi ne manca una di monetina lì e poi credo che sia pieno forse acquisterò una nuova abilità non lo so vedremo e vai salvataggio ragazzi ma il gameplay non si conclude qui inizieremo subito l'altro livello perché è durato poco quindi vai si va subito si va subito bisogna correre ragazzi spieghiamo le vele allora facciamola crescere un po' di due livelli ottimo così ottimo ottimo io prendo il mio solito personaggio che ormai voi sapete Rufy l'ottimo Rufy o Rubber chiamatelo come volete ah si parte subito ragazzi pare che si parte subito questo livello qui non è molto molto ampio diciamo no chiamiamolo così diciamo un po' così però si fa si fa preparazione alla battaglia imposta monete ullala vai vediamo un po' che posso mettere qui bradone oh vita non so cosa posso mettere vediamo eh tranquilli eh tranquilli ragazzacci qui che vai metto questo che mi piace mi piace mi piace mi piace impostabilità non posso metterne va bene va bene così ok ragazzi possiamo partire senza perderci in chiacchiere qui vai facciamo un po' di gameplay qui dentro allora io sono qui ragazzi spostatevi devo vedere che c'è qui no questo è per la salute non mi interessa questo mi interessa invece perché poi mi interessa qui c'è il forziere lalala uuuu vai via 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 vai dobbiamo conquistare qui dobbiamo fare la conquista di tutto guardate il bordello quando ce n'è da fare guardate lì conquista prigione nord ovest tranquilli conquisto tutto ci pensa brado qui a conquistare tutto non vi fate problemi eh vabbè dai però che casino che casino qui eh conquisto tutto però vai fate uscire il capo fate uscire il capo ecco il capo ragazzi arrivati il capitano Findus eh ma dai ma dai ma dove vai eh vai un'arena conquistata un'arena chiamiamola così poi ottimo ottimo così ragazzi ottimo così ecco un altro di quei forzieri belli eccoli qua vieni qui che ti ho visto non ti salverà lo scudo lo scudo non potrà mai salvarti dalla potenza di brado qui e vai uhlala ragazzi uhlala vai andiamo avanti un altro forziere chi l'aveva visto non l'avevo visto ragazzi vai così che casino che casino ecco un altro capitano ma ragazzi voi sapete che a brado non lo spaventa il capitano neanche il capitano uncino quindi però un attimo eh un attimo qui non capisco perché non ho visto dove è un altro capitano qui ho visto che c'è una bandiera rossa a meno che non devo scendere no non devo scenderli ecco adesso non capisco dov'è ah eccolo qui eccolo qui ragazzi voleva scappare lui voleva scappare voleva farla franca il signorino eh eh vabbè ma ce ne sono altri ma ce ne sono altri qui da come vedo ecco sarà lui ragazzi credo che sarà lui a questo punto perché io poi non ne vedo altri qui intorno eh non ne vedo veramente altri dai dai andiamo 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 ora distruggo tutti qua ragazzi conquistiamo questa zona interromperemo il gameplay ok un altro forziero un altro forziero aspetta aspetta non vai da nessuna parte non vai eccomi qui ottimo 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 via eccomi qua ragazzi vado come un treno vado spedito come un treno qui eh eh vai così ma state tranquilli tranquilli tutti dai dai ora esce un altro capo ragazzi ora esce un altro eh eccolo qui dov'è ecco il fenomeno ragazzi direttamente da Poggi Bonzi eccolo qui grande vabbè ragazzi sono sono devastante ecco sono devastante vai vai allora ragazzi questo gameplay di One Piece numero 16 si conclude qui One Piece Pirate Warriors 2 ci sentiremo con i prossimi gameplay un saluto a tutti al vostro Diablotex ciao banda black and roll black and roll black and roll black and roll